Buon inizio di settimana, benvenuti alla nostra pagina dell'informazione. Apriamo però purtroppo con una notizia del giorno che non è tanto piacevole. Parliamo della morte di Oriana Bertolino, questa ragazza pallavolista di Marsala. Marsala è una città in effetti sotto shock. Oriana è morta vittima di un incidente che si è verificato a Malta. Il giorno dopo la tragedia, Marsala è ancora sconvolta. Un'intera comunità sotto shock piange per Oriana Bertolino, la pallavolista di 31 anni, deceduta a Malta in seguito a un incidente con il quad. La giovane donna aveva giocato nel Marsala Volley nel VSCS Piauto A29 Mazzara. Di recentemente invece aveva assunto la guida tecnica dell'Under 13. E sono tante le società sportive a ricordarla esaltandone anche le doti umane. Il sindaco Massimo Grillo attraverso i social ha manifestato il cordoglio dell'amministrazione. La nostra comunità è profondamente colpita dalla tragica notizia della perdita della giovane Oriana Bertolino. A soli 31 anni, Oriana ha perso la vita in un tragico incidente a Malta, lasciando un vuoto incolmabile nei cuori di tutti coloro che la conoscevano. In questi momenti di dolore e sconforto, desidero esprimere a nome dell'amministrazione comunale e di tutti i cittadini marsalesi il nostro più sentito cordoglio e la nostra vicinanza alla famiglia di Oriana. Frattanto proseguono le indagini per ricostruire l'esatta dinamica della tragedia. Alla guida del quad, precipitato da una scogliera viera un uomo di 47 anni e anche lui di Marsala, è rimasto illeso. Oriana invece non ha avuto scampo. Sembrerebbe che il conducente abbia perso il controllo del mezzo per un problema allo sterzo. La polvere poi sollevata dagli altri quad, Oriana stava partecipando a un raduno e la scarsa aderenza al terreno sterrato, non avrebbero consentito al marsalese di fermarsi in tempo prima della fine della scogliera. Ancora peraltro non si sa quando la salma farà rientro a Marsala sul cadavere dopo il riconoscimento dei familiari, infatti verrà eseguita l'autopsia. L'esame dovrebbe essere effettuato a metà settimana. Tutte le altre notizie tra poco nella prima edizione del nostro TG Sud. I titoli di oggi, città a secco. Parliamo di Trapani, cambiano i turni della distribuzione dell'acqua a causa dell'emergenza idrica. Intanto per oggi pomeriggio è stato convocato il Consiglio Comunale dove si potrebbe parlare anche della siccità. Tragedia a Favigliana, un agente di polizia penitenziaria in servizio nel carcere dell'isola è stato rinvenuto privo di vita. I sindacati parlano di uno stilicidio. Trapani, città creativa. L'altro titolo, partito il percorso di candidatura della provincia di Trapani al network UNESCO. Sulla questione abbiamo ascoltato Rosalia Dalì. E poi ancora insieme per l'integrazione del lavoro, Rotaract Trapani ha donato due computer alla cooperativa Badia Grande. Serviranno ad ampliare le competenze informatiche dei minori stranieri non accompagnati. Per lo sport, la Serie A che verrà, cresce l'entusiasmo in città per il prossimo massimo campionato nazionale di basket che vedrà tra i protagonisti anche la Trapani Shark. E poi l'approfondimento lo dedichiamo alla biodiversità dello specchio di Venere con il lago Bagno dell'Acqua di Pantelleria che è stato al centro di un convegno tenuto nell'isola e che ovviamente sarà il tema della nostra pagina di approfondimento. Apriamo con la siccità. A Trapani cambiano i turni della distribuzione dell'acqua a causa dell'emergenza. L'emergenza siccità in Sicilia comincia a mostrare gravi criticità anche nel trapanese e nel capoluogo. Sicilia Acqua infatti da mesi non assicura dotazioni idriche a Trapani. Dotazioni che lo scorso anno arrivavano a quasi 100 litri al secondo. Trapani, ha scritto l'amministrazione comunale, deve provare ad essere autosufficiente rispetto anche al calo delle sorgenti nonché a garantire l'approvvigionamento al comune di Misiliscemi e ai centri logistici dei Vigili del Fuoco, dell'Aurionatica, dell'Esercito, della Capitaneria di Porto e a tutti gli enti e uffici centrali della pubblica amministrazione. A questo si aggiunge l'aumento della popolazione estiva grazie ai flussi turistici. E poi bisogna far fronte anche a delle criticità strutturali insistenti nel centro storico con abitazioni prive di sufficienti contenitori di accumulo e dunque dipendenti dalla costanza di erogazione seppur aggiornate alterne. Da qui la necessità di modificare il turno dell'erogazione. Oggi lunedì 1 luglio non è stata infatti distribuita acqua per consentire un accumulo sufficiente che garantisca l'approvvigionamento domani a tutte le utenze del centro storico. Il 3 luglio invece dovrebbe essere il turno di Trapani Nuova. Il turno di distribuzione dunque seguirà il seguente calendario. Lunedì accumulo, martedì centro storico. Nelle prossime ore invece sarà promulgato un comunicato sulla distribuzione della zona di Trapani Nuova che dipenderà dagli arrivi di Bresciana dove si sta intervenendo sul ripristino di altri 5 pozzi. E oggi pomeriggio torna a riunirsi il Consiglio Comune di Trapani. Ma grado ci siano all'ordine del giorno alcuni punti che riguardano il riconoscimento di debiti fuori bilancio, appare evidente che ci si concentrerà nel dibattito proprio sulla emergenza idrica. Convocato per oggi pomeriggio e per giovedì 4 luglio il Consiglio Comunale di Trapani. All'ordine del giorno il riconoscimento di tre debiti fuori bilancio. Tra questi il debito scaturito da spese legali derivanti da una sentenza al cui il Comune di Trapani risulta socconvente. Ma in realtà si potrebbe anche discutere della siccità che sempre più sta creando problemi all'intera città. Tanti trapanesi infatti segnalano disservizi dovuti alla mancata erogazione idrica da parte dell'amministrazione e chiedono interventi efficienti. Ed è proprio a questi trapanesi che si è rivolto ai consiglieri di opposizione Torre Fileccia. Leggo di lamentere legittime per i disservizi legati alla mancata erogazione dell'acqua ha scritto il consigliere di MPA, ma sarebbe utile venire a Palazzo luogo adatto a dare soluzioni, sostenere le giuste cause e dando forza a chi vi rappresenta. Io, continua Fileccia, come sempre tratterò e chiederò a chi ha il potere di risolvere la questione. Ricordo che però tutti i consigli comunali sono aperti al pubblico e non serve un consiglio straordinario per vedere qualcuno presente. La partecipazione dei cittadini è un ulteriore stimolo ed una corposa pressione che in piena civiltà ed educazione ognuno di voi può esercitare. A Favignano ha trovato morto un agente di polizia penitenziaria ed è allarme proprio su tutto il territorio nazionale. Tragedia a Favignano, un agente di polizia penitenziaria in servizio nelle carceri dell'isola si è tolto la vita. Aveva 55 anni, originario di Favignano, viveva a Marsala. Da circa un mese era assente sul lavoro per malattia. Ieri mattina di lui si erano perse le tracce. Nel tardo pomeriggio il macrebo rinvenimento impiccato ad un albero. A darne notizia sono stati i sindacati di categoria. Non si ferma evidentemente la spirale di suicidi intorno ai penitenziari, la cui tragica conta sarà ben 53 dall'inizio dell'anno, 5 fra gli agenti e 48 fra i detenuti, lo dice Gennarino De Fazio, segretario generale della UILPA Polizia Penitenziaria. Un fenomeno, aggiunto, che necessita di essere compiutamente investigato e affrontato concretamente. Peraltro non riteniamo affatto sufficienti le iniziative e supporti anche di natura psicologica finalizzati a intercettare a valle il disagio, ma reputiamo indispensabili e non più rinviabili, interventi a monte che lo prevengano. Ci stringiamo costernati attorno al dolore della moglie e degli altri congiunti del sovrintendente scomparso, conclude De Fazio. Non di meno invochiamo nuovamente misure urgenti da parte del governo. È una notizia che sconvolge tutti noi, dichiara Donato Capesce, segretario generale del SAP, che ricorda, come quello dei poliziotti penitenziari e suicidi, è un dramma che va avanti da troppo tempo, senza segnali concreti di attenzione da parte del Ministero della Giustizia e del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria. La vittima da circa 5 anni prestava servizio presso l'ufficio matricola e da circa un mese era in malattia. Si trovava presso la casa di villeggiatura di Favignana. Nei pressi c'è un bosco in cui è stato ritrovato, privo di vita, il leader del SAP, anche se allo Stato sono in corsa certamente sulle ragioni del tragico gesto, si ripera che i poliziotti penitenziari sono abbandonati, mentre invece avrebbero bisogno di uno strumento di aiuto e di sostegno. Rimaniamo nelle Egadi, solta per un intervento di soccorso in mare, avvenuto ieri sera a Levanzo. Un turista caduto sugli scogli nella zona di Calafredda, Levanzo, nel Egadi, è stato soccorso e recuperato dal personale sanitario del servizio di emergenza del 118 operativo sull'isola, intervenuto tempestivamente in collaborazione con la Capitaneria di Porto. Il turista, un medico settantenne, è stato trasportato a Trapani con l'idroambulanza Santa Lucia dell'azienda sanitaria provinciale in servizio sull'isola e successivamente trasferito con un'autoambulanza all'ospedale Sant'Antonio Abate. L'intervento dell'idroambulanza Santa Lucia è stato portato a termine con i comandanti Giuseppe Novare, Claudio Catalano e un'infermiera coaudivati dal gommone della Capitaneria di Porto di Favignana. Servizio pronto per qualsiasi tipo di intervento e trasferimento su terraferma. Subito a disposizione, quindi rassicuriamo i turisti per qualsiasi emergenza sanitaria che siamo sempre pronti per poterli portare in sicurezza e su terraferma. Ancora una volta il servizio di idroambulanza, commenta il direttore generale dell'Asp di Trapani, Ferdinando Croce, si rivela fondamentale per l'assistenza e il soccorso in emergenza a mare, assicurando il trasporto tempestivo e in totale sicurezza dei pazienti, soccorsi e dei soccorritori, potenziando così il servizio di emergenza del 118 sul territorio. Tutte le altre notizie nel prossimo blocco informativo. Adesso parliamo di Trapani, città creativa, con questo percorso di candidatura della provincia al network UNESCO, ci basiamo sulla nostra enogastronomia. Poi parleremo di integrazione del lavoro con il Rotaract di Trapani che ha donato due computer alla cooperativa Badia Grande. Via via, andiamo verso lo sport, soprattutto con le attese per la serie A di basket. Intanto è partito ufficialmente il percorso di candidatura della provincia di Trapani al network UNESCO delle città creative per la gastronomia. Sulla questione abbiamo ascoltato Rosalia Dalì. Il percorso di candidatura dell'intero territorio della provincia di Trapani al network UNESCO delle città creative per la gastronomia è ufficialmente partito. Il distretto turistico della Sicilia occidentale, infatti, ha organizzato incontri per presentare il progetto di candidatura ai rappresentanti istituzionali, alle associazioni di settore e agli operatori turistici, raccogliendo grande interesse e partecipazione per l'iniziativa. Una candidatura importante, insomma, che potrebbe portare benefici in ambito sociale, culturale e occupazionale. Sì, l'UNESCO periodicamente emana un bando per riconoscere il titolo di città creativa ad un territorio a cui possono partecipare da tutto il mondo. Sono tanti i settori per cui si può tenere il titolo di città creativa. Noi stiamo provando con quello che è il grande patrimonio enogastronomico, quindi come distretto turistico stiamo coordinando questo lavoro di coinvolgimento del territorio, di individuazione, come sappiamo già di tutta l'eccellenza enogastronomica, quindi gli operatori, i ristoratori, tutto il mondo dei produttori, nonché i comuni, le istituzioni, per partecipare insieme, uniti, nel tentativo di aver riconosciuto questo ambito premio. Perché così è? Perché significherebbe entrare nella rete, nel circuito internazionale UNESCO delle città creative, consigliate che in Italia sono solo 14 e sono tutte in nord Italia, fino a Roma, e città creative per l'enogastronomia sono soltanto tre, Alba, Parma e Bergamo, e quindi non c'è una città del sud. E allora Trapani, perché ha un ricco patrimonio, quindi ha tutte le carte in regola per provarci il territorio, in più la posizione al centro del Mediterraneo farebbe anche da ponte con alcune città creative già riconosciute nel Nord Africa, nel bacino del Mediterraneo, e quindi sicuramente ha tutte le carte in regola. Stiamo lavorando, stiamo creando questa fortissima rete sul territorio, stiamo preparando un dossier che racconti il territorio, ma soprattutto che dia una visione di come sviluppare una progettualità che porti a valorizzare proprio questo grande patrimonio inogastronomico e quindi il territorio. Ci proviamo sempre con grande fiducia, con grande entusiasmo, perché comunque riteniamo che è un lavoro importante, che è una delle mission che il distretto deve porsi, quello comunque di far conoscere a livello internazionale i punti di forza di questo territorio. Pubblicato dalla Regione Sicilia un bando da oltre 11 milioni di euro per la diversificazione delle attività impreditoriali nel settore dell'agricoltura. Oltre 11 milioni di euro per sostenere le aziende agricole a fare investimenti per diversificare le proprie attività. Sono le risorse previste nel bando pubblicato dal Dipartimento regionale dell'Agricoltura, finanziato con i fondi del Completamento per lo Sviluppo Rurale della Regione Siciliana al piano strategico PAC 2023-2027. In particolare, le imprese potranno creare iniziative di agriturismo, agricoltura sociale, attività educative e didattiche, trasformazione di prodotti agricoli con lavorazione e commercializzazione in punti vendita aziendali. Sosteniamo gli investimenti delle aziende agricole della Sicilia che vogliono ampliare e diversificare la propria attività, ha dichiarato il Presidente della Regione, Renato Schifani. Si tratta di imprese che potranno sfruttare il grande potenziale delle aree rurali, creando contemporaneamente attività che avranno ricadute positive nei territori sia in termini di nuova occupazione che di rilancio dell'economia delle zone interne della Sicilia. Beneficiari del bando, la cui dotazione finanziaria potrà eventualmente essere aumentata con risorse aggiuntive, sono gli imprenditori agricoli, singoli o associati, tranne quelli che esercitano esclusivamente attività di selvicoltura e acquacoltura. I progetti verranno finanziati con un sostegno in conto capitale fino al 65%. Le domande potranno essere presentate a partire dal 25 luglio e fino al 13 novembre 2024. Badia Grande e Rotaract Trapani, insieme per l'integrazione nel mondo del lavoro dei giovani immigrati ospitati nella frazione valdericina di Bonagia. Il Rotaract di Trapani ha donato due computer portatili nuovi ai giovani migranti ospiti nella cooperativa sociale Badia Grande. Un gesto non solo di generosità, ma un passo concreto verso l'integrazione e l'empowerment di chi si trova in una fase di transizione così delicata nella propria vita. Il progetto, che ha portato alla donazione dei due computer, è iniziato durante le festività natalizie con uno spettacolo di beneficenza organizzato dal Rotaract e con il coinvolgimento delle scuole del Trapanese. I fondi raccolti durante l'evento sono stati destinati all'acquisto dei due computer che ora saranno installati nell'aula multimediale del centro, puntando così ad ampliare le competenze informatiche dei beneficiari, facilitare la ricerca di lavoro, migliorare la comunicazione e incrementare la socializzazione. Intanto il presidente del Rotaract di Trapani, Bianca Pugliese, insieme a Greta Margagliotti, coordinatrice dei progetti SAI della cooperativa Badia Grande, stanno pianificando una serie di stage formativi per la prossima stagione, in collaborazione con le associazioni di categoria e l'imprenditoria della provincia di Trapani. Obiettivo è rispondere alla crescente domanda di mano d'opera nei settori dell'agricoltura, della pesca, della zootecnia, dell'industria conserviera, dell'idilizia e del turismo ricettivo. Queste opportunità non solo mirano a integrare i migranti nel mercato del lavoro locale, ma anche a sopperire alla carenza di mano d'opera in settori spesso caratterizzati da lavori manuali faticosi, dai quali le nuove generazioni locali stanno sempre più fuggendo. Il bar dell'aeroporto Italo D'Amico di Pantelleria ha finalmente riaperto i battenti. Chiuso da sei mesi, era stato abbandonato dalla precedente gestione perché il business non era considerato sostenibile. Tanto stupore, tanto dissapore, ma in fondo la decisione presa dai precedenti gestori è stata solo frutto di un semplice calcolo economico-finanziario. Canone di affitto non adeguato, cioè troppo alto, e incasso non redditizio, cioè troppo basso, chiunque avrebbe abbandonato, soprattutto durante la stagione invernale, che non vede più atterrare voli diretti colmi di turisti dalle principali città italiane. Il fatto aveva sollevato preoccupazioni nel primo cittadino Fabrizio d'Ancona, che aveva deciso di incontrare il presidente di ENAC, Pierluigi Umberto di Palma, il quale si era impegnato a intervenire e mettere fondi sia per il bar che per gli altri interventi strutturali dell'aeroporto. Ed è così che finalmente si è giunti ad un accordo che vede la stessa GAP, la società che guida lo scalo, gestire anche il bar. E la sua riapertura è molto importante. Non si tratta infatti solo di dare la possibilità di prendere un caffè, ma di garantire un servizio il cui obbligo è sancito da un regolamento comunitario, che deve assicurare l'assistenza del passeggero in caso di ritardi o cancellazione dei voli. All'inaugurazione erano presenti il primo cittadino Fabrizio d'Ancona, Vito Riggio, già presidente dell'ENAC, e Mariano Rodo, amministratore delegato della GAP. Finalmente, dopo ben sei mesi di chiusura, interloquendo con l'ENAC, la quale, fatta anche parte del gente, ha capito qual era la problematica, ci ha chiesto, con lo torto, di gestire questo bar, che tra le cose noi nel passato già l'avevamo fatta, ma lo stiamo gestendo come tutti gli altri servizi, seguendo la nostra mission di società, che è quella comunque di lasciare soddisfatto il turista, quindi il cliente del sistema aeroportuale, che sia esso vettore, che sia esso passeggero, perché se noi non chiudiamo tutta la filiera in modo soddisfacente, rischiamo di far bruciare energie, anche economiche, a chi investe per promuovere e portare Pantelleria ai livelli sempre più alti, perché se manca un pezzo di questo percorso cade tutto, quindi questa è un po' la nostra volontà, il nostro interesse, la nostra speranza di contribuire anche con questo caffè mattutino alla causa del turismo sull'isola. Per gli appuntamenti sulla nostra emittente in onda sul canale 87, ma anche in streaming sul nostro sito telesudweb.it, questa sera alle 21, poi in replica alle 23, una nuova puntata di Res Pubblica Sicilia Chiama Europa, uno speciale sul turismo che ci attende o che già stiamo vivendo, in studio avrò il presidente del distretto turistico della Sicilia Occidentale, la dottoressa Rosaria D'Ali, e il presidente di Federal Berghie Provinciale, il dottor Antonio Marino, alle 21 e poi alle 23 in replica. Lo sport. Cresce l'entusiasmo per la prossima stagione di basket, parliamo ovviamente di Serie A, e Travani si sta preparando. Sono trascorso soltanto tre settimane dal magico trionfo della Trapani Shark contro la Fortitudo Bologna. Lo scorso 9 giugno, i Granata si assicurano la vittoria del campionato di A2 e la promozione in Lega Basket A 32 anni dopo l'ultima volta. Un traguardo che significa molto sotto diversi punti di vista. Trapani si prepara a vivere una delle stagioni più importanti di sempre, perché le ambizioni del presidente Antonini non si limitano alla salvezza, ma vorrebbe che Granata si piazzasse nelle prime otto posizioni della classifica, al termine della stagione regolare, per giocare i play-off, ancora meglio nelle prime quattro, per evitare plausibilmente Limpia Milano e Virtus Bologna. L'entusiasmo in città è alle stelle, e nonostante manchino ancora due mesi al via del prossimo campionato, i tifosi non possono far altro che parlare di ciò che si prospetta nell'immediato futuro del club. Repesa potrebbe prendere il ruolo di head coach sulla panchina dei siciliani, con Andrea Diana, che come nel 2021, anno dello scudetto della Virtus, ricoprirebbe le vesti di vice allenatore. Sono poi numerose le voci di mercato che girano intorno a Trapani, da Bass a Tonut, con l'ultimo rumor che costerebbe persino John Petrucelli, italo-americano della Germani-Brescia, che potrebbe firmare un pluriennale con la compagine trapanese. Sarà indubbiamente una stagione difficile, perché da neopromossa la Shark dovrà prepararsi ad affrontare squadre storiche, come la Virtus Bologna, la Reier-Venezia, Brescia, Sassari, e la squadra campione d'Italia in carica, l'Olimpia-Milano. Tuttavia, con le giuste scelte e con una corretta programmazione, Trapani avrà la possibilità di dire la propria in un campionato di alto livello, dove per primeggiare contano tanto anche le motivazioni, e a Granata sicuramente non verranno meno. Primo appuntamento dunque il prossimo 13 luglio, giornata in cui la Sport Invest presenterà la nuova stagione sportiva di calcio e basket e le divise, con tanto di appuntamenti estivi, dai ritiri alle amichevoli. Allacciamo le cinture di sicurezza perché si prospetto un'altra annata a tutto gas. Nel fine settimana si svolta a Parerma invece la festa del calcio siciliano, organizzata dal Comitato regionale della LND. Tanto divertimento, risate e leggerezza. Questo il clima che si è respirato venerdì pomeriggio nella Sala Rossa del Comitato regionale Sicilia della Lega Nazionali Dilettanti, che ha ospitato la seconda edizione della festa del calcio siciliano. A condurre l'evento sono stati i giornalisti Nadia Lamalfa e Marco Gullà, affiancati dalle battute e dalle barzellette del comico palermitano Sasa Salvaggio, che ha proposto il meglio del suo vasto repertorio comico, fatto di sketch, umorismo e tanta ironia. La Kermess, ideata e organizzata dal Comitato regionale Sicilia della LND, presieduto da Sandro Morgana, ha visto protagonista le squadre vincitrici dei campionati dall'eccellenza alla seconda categoria, fine ai campionati regionali giovanili, al calcio a 5, al calcio femminile e agli e-sport nella stagione 2023-24, che sono state premiate con l'ambito riconoscimento della Coppa. Per il secondo anno consecutivo abbiamo voluto festeggiare il calcio siciliano, con l'ormai tradizionale appuntamento di intrattenimento, entrato di diritto nella nostra programmazione stagionale del Comitato regionale. Anche questa edizione ha avuto un grande successo di partecipazione e attenzione da parte di tutti gli addetti ai lavori, a conclusione di una stagione ancora una volta straordinaria, e al tempo stesso ricca di sostanziali novità. La più importante è certamente legata al decreto legislativo numero 36, che ha abolito il vincolo sportivo e ha introdotto il tema del lavoro sportivo. Ha voluto sottolineare il Presidente del Comitato regionale Sicilia, Sandro Morgana. Abbiamo dedicato durante la stagione molte giornate alla formazione e all'informazione sulla riforma dell'ordinamento sportivo, che sono servite alle nostre società per prepararle a questo cambiamento epocale. Inoltre quest'anno abbiamo istituito due nuovi importanti riconoscimenti, il premio intitolato a Franco Zuccalà per la stampa sportiva, andato a Roberto Gueli, e il premio speciale Orazio Sino, andato a Giancarlo Abete. Nell'occasione, Wank ha annunciato ufficialmente che la Sicilia organizzerà il prossimo torneo delle regioni, la manifestazione giovanile per rappresentative, un appuntamento estremamente importante e di interesse non solo sportivo, che coinvolgerà tutta la regione pronta ad accogliere nella prossima primavera oltre 3.000 tra giocatori, dirigenti e addetti ai lavori. Una vetrina che metterà in luce anche le bellezze naturalistiche della nostra Sicilia, conclude il Presidente. Eccoci alla sessione dell'approfondimento, parliamo di queste ricerche e dei sistemi di conservazione della biodiversità del lago Bagno dell'Acqua. Questo è stato il tema del convegno che si è tenuto al castello di Pantelleria. Vediamo. La biodiversità è ricchezza e Pantelleria custodisce un ecosistema unico al mondo, il lago Bagno dell'Acqua, anche detto specchio di Venere, un hotspot di biodiversità per i microrganismi, per le specie vegetali e animali interessato da interventi di tutela e monitoraggio di carattere geologico e biologico, che hanno rilevato tra l'altro la presenza di specie rare, endemiche o nuove. Il lago di Bagno dell'Acqua è una specie di isola di biodiversità in un'isola di biodiversità che è Pantelleria ed è un ambiente assolutamente particolare. La struttura geologica, l'intersezione tra una struttura di sprofondamento del vulcano e una grande frattura, una grande faglia che attraversa l'isola, fa sì che ci sia una forte venuta di CO2, di anidride carbonica. Questa anidride carbonica dà nutrimento a delle comunità microbiche essenzialmente di batteri che fanno sì che il chimismo delle acque sia assolutamente unico, un chimismo alcalino, il contrario di acido, che è molto molto particolare, che sul fondale si formino delle matte, dei tappeti di batteri, che i sedimenti dell'acqua, i sedimenti bianchi, che in realtà sono bianchi in superficie, ma al di sotto sono neri perché manca ossigeno, perché sono essenzialmente costituiti da materia organica che va in decomposizione nella parte più profonda, sono mediati dalla vita stessa dei batteri. Tutto un insieme di organismi e di processi geologici che interagiscono tra di loro che nell'insieme fanno una biodiversità che si basa su questa grande geodiversità del lago. Quindi il nostro scopo è stato quello di mettere su un gruppo di ricerca estremamente interdisciplinari, siamo tre università solo di Sapienza, sono tre dipartimenti all'interno di Sapienza, zoologia, botanica e geologia, tre istituti del CNR, l'Ingv, l'Università di Malta, l'Università di Palermo, che ognuno con le sue competenze hanno creato un quadro conoscitivo che prima non si aveva e che è la base per poter conoscere quali sono i fattori che fanno funzionare il lago e quindi impostare delle politiche di conservazione per questa perla di biodiversità che è il lago di Bagno dell'Acqua. In questi anni, su incarico dell'ente Parco Isola di Pantelleria, si è provveduto ad un'accurata indagine idrogeologica, vegetazionale, ambientale e paesaggistica delle aree circostanti il lago. Il progetto di conservazione della biodiversità del Bagno dell'Acqua è stato finanziato dalla regione siciliana attraverso un finanziamento più faeso dall'inizio, adesso il Fondo di Coesione, ed è un progetto integrato che coniuga la ricerca scientifica con la gestione e interventi di riqualificazione ambientale e di generia naturalistica. Grazie agli studi fatti dalla Sapienza, dal CNR, da INGV e da IGAG si è potuto approfondire il sistema lago nella sua interezza, quindi dalle acque alla parte geologica, alla botanica, alla fauna e questo ha permesso di prevedere un intervento di riqualificazione della strada nonché di protezione delle specie endemiche del lago, tipo il demonium, affinché si potesse coniugare la fruizione e la conservazione. Penso che sia un progetto molto interessante, una buona pratica, che il parco intende attuare anche su tutta la tipologia di progetti che vedono i luoghi ad alta fruizione ma anche ad alta importanza da un punto di vista conservazionistico. Le attività sono state condotte da un ricco partenariato coordinato dal Parco Nazionale e dal Comune di Mantelleria. Siamo molto orgogliosi del lavoro svolto finora per gli originali risultati realizzati in questi ultimi anni nel campo della ricerca applicata e quella scientifica che ci permetterà di intervenire in maniera sartoriale su quelli che sono gli impatti dell'uomo e quelli naturali e grazie a questo gruppo di lavoro multidisciplinare che accompagna gli uffici del parco riusciremo sicuramente a garantire un miglioramento delle condizioni di salute dell'ecosistema lago.